Benvenuti a tutti a questo nuovo incontro nel nostro breve ciclo dedicato al bicentenario di Anita Garibaldi. È un grandissimo piacere oggi per noi avere qui la professoressa Silvia Cavicchioli, che è una esimia esperta di Anita Garibaldi, autrice di una importante biografia edita da Einaudi, studiosa. Anche parlavamo adesso dell'iconografia di Anita Garibaldi, anche delle immagini, studiando anche proprio l'immagine che abbiamo utilizzato per pubblicizzare questo ciclo di immagini che evoca la figura di Anita senza esserlo evidentemente. È il ciclo che si conclude, iniziato con la conferenza del professor Carmine Pinto, che è appunto il direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che ci ha onorato della collaborazione, ciclo che si è aperto anche con le parole di sua eccellenza all'ambasciatore d'Italia Francesco Azzarello, che qui a Brasile naturalmente ha voluto dare un particolare portanza a questo bicentenario che lega un pochino le vicende storiche costitutive in qualche modo, sia dell'Italia che del Brasile. Il professor Alessandro Bonvini in una seconda conferenza ci ha parlato della rivoluzione dei Farrapos e quindi di tutto questo movimento rivoluzionario repubblicano che legava le due sponde dell'Atlantico, soprattutto per quanto riguarda la regione meridionale del Brasile. Oggi appunto arriviamo all'argomento centrale del nostro ciclo, che sapete che noi l'abbiamo proposto nel bicentenario della nascita di Anita Garibaldi, che festeggeremo il 30 agosto di quest'anno, del 2021, pubblicando sui nostri canali le registrazioni di questi incontri nella versione sottotitolata in portoghese perché siano più facilmente fruibili da parte di tutto il pubblico. L'incontro di oggi, come nelle altre occasioni, è aperto appunto al dialogo con i partecipanti. In questo momento la chat è chiusa perché dopo la mia introduzione avremo l'incontro della piccola conferenza della professoressa Caricchioli, ma ci saranno poi alla fine 15 minuti, un quarto d'ora a disposizione per eventuali vostre curiosità legate appunto a questa figura e al suo contesto storico. Ringraziando ancora la professoressa Caricchioli per la disponibilità, le passo la parola e sono anch'io molto curioso di sentire come questa figura veramente si muove tra storia e mito. Molte grazie al direttore Michele Gialdroni, lo ringrazio molto, sono io in realtà che ringrazio lui e tutto il suo staff tra l'altro di gentilissime ed efficientissime signore e colleghe che per l'organizzazione davvero di questo ciclo molto interessante e devo dire anche, permettetemi, forse anche necessario davvero per ricordare la figura di Anita nel bicentenario di questa nascita. Purtroppo la situazione ha in qualche modo ostacolato, forse anche molte altre iniziative che avrebbero potuto avere luogo in Italia, però comunque finalmente siamo in grado anche in queste forme, tra l'altro a distanza da una parte all'altra dell'oceano atlantico, insomma di comunicare tra di noi, di parlare, di evocare davvero questa donna e la sua figura. Io inizio con un dato. Nel 1999, in occasione del centocinquantesimo anniversario della sua morte, quindi, il municipio di Laguna, nello stato di Santa Catarina, in Brasile, aveva proprio individuato, come diceva prima il direttore, nel 30 agosto 1821, la probabile data di nascita di Ana Maria de Jesus Ribeiro da Siua e ha emesso così il primo certificato di nascita della grande eroina, Anita Garibaldi. E già questo dato in qualche modo dovrebbe farci riflettere moltissimo, perché ci dice in qualche modo delle grandi difficoltà di reperire notizie, documenti certi su questa donna, sulla prima moglie di Giuseppe Garibaldi. E ci sono delle condizioni di partenza che rendono davvero difficile questa ricostruzione. Innanzitutto era una donna. Era povera, non di una famiglia poverissima, però di una famiglia molto numerosa, il che di fatto rendeva le condizioni di questa famiglia chiaramente modeste, molto umili. E poi analfabeta. Anita era in grado di scrivere soltanto il suo nome o poco più. Ancora, Anita scompare prematuramente, muore a soli 28 anni. Quindi tutte queste sono condizioni di partenza che rendono davvero, che hanno reso sempre molto difficile andare oltre l'anedottica e il mito. E questo paradossalmente è ancora diventato più vero, nel momento in cui la vita di questa figlia della Pampa incrocia la strada, la vita di uno invece degli uomini più celebri, più famosi di tutta la storia moderna. Cioè proprio nel momento in cui la vicenda terrena di Ana Maria incrocia quella di Giuseppe Garibaldi e da quel momento lei diventa per sempre Anita, ma rimanendo però in qualche modo ingabbiata nell'epopea garibaldina e quindi anche vincolata al mito dell'eroe dei due mondi. Per cui paradossalmente anche Anita subisce un po' il destino di molte donne del risorgimento italiano, anche se lei italiana non era, di essere ricordate solo, come diciamo, di riflesso, in quanto mogli, marite, mogli, scusatemi, compagne, figlie, sorelle, di uomini famosi, di padri della patria, ecco, ma non in realtà non magari conosciute appunto per la loro vera e propria biografia. E voglio ancora citare un dato. Nel 1969 Luigi Barzini Junior, figlio del grande giornalista Luigi Barzini, si trovava in quel momento negli Stati Uniti. Una scrittrice, Lisa Sergio, era un'antifascista che era fuggita appunto in America. Nel 1969 questa Lisa Sergio scrive una biografia di Anita Garibaldi in inglese. Chiede la prefazione a questo importante personaggio, a questo importante intellettuale. Lui le scrive una lettera, questa non diventerà poi mai in realtà la prefazione di questo libro, ma in questa lettera lui dice, a proposito di Anita, little more than a ghost, poco più di un fantasma. Cioè c'entra un punto fondamentale, dice Luigi Barzini Junior, Anita è venerata da tutti gli studenti delle scuole italiane, tutti gli studenti sanno, conoscono il nome di Anita Garibaldi, quindi il volto di Anita Garibaldi è ritratto in moltissime litografie, moltissimi dipinti, ma in realtà di questa donna non si sa assolutamente nulla. E quindi io da qui un po' sono partita. Ho appunto scritto un libro, come è stato ricordato prima, e ho cercato di in qualche modo ricostruire la biografia, nel senso di recuperare tutto quello di certo, di sicuro che abbiamo sulla sua vita, sulla parte sudamericana, che è anche il riflesso della vita sudamericana di Giuseppe Garibaldi, e poi di questi soli 17 mesi che Anita trascorre nel vecchio continente, cioè dal momento in cui sbarca a Genova nel 1848, fino a quando muore a Mandriole, vicino a Ravenna, nell'agosto del 1849. Ho cercato di ricostruire quindi, soprattutto anche partendo dai giornali, partendo insomma dalla documentazione disponibile, ma poi in realtà è un libro un po' particolare perché c'è una parte, il libro sono circa 280 pagine, lo dico subito, Anita nel libro muore a pagina 72. Il resto di questo libro è appunto la ricostruzione della conservazione della memoria, ma soprattutto della costruzione del suo mito. Io vorrei appunto condividere con voi anche alcune immagini. Allora, devo dire che soprattutto per quanto riguarda la prima parte, quella della vita di Anita, dobbiamo tutti molto a un brasiliano, un architetto brasiliano, Wolfgang Rau. era brasiliano, nonostante appunto il cognome tradisca una appartenenza e con una derivazione diversa, un architetto brasiliano di Florianopolis che per ben 40 anni aveva percorso in lungo e in largo le province meridionali del Brasile, alla ricerca di ogni minimo indizio riguardante la vita di Anita e della sua famiglia. E così, grazie alle ricerche di Rau, noi sappiamo che Anita era figlia di un madriano, Bento Ribero da Silva, e di una sarta, Maria Antonia Antunis, ed era appunto la terza di molti figli. Era nata molto probabilmente nella frazione di Morignos, e aveva condotto appunto un'esistenza povera, intenta soprattutto a badare ai figli più piccoli. L'evento drammatico nella vita sua è quella della morte del padre. Il padre muore quando lei è ancora molto giovane, per cui a soli 14 anni Anita viene data in sposa a un calzolaio, Manuel Duarte, per alleggerire chiaramente il carico della famiglia. Sappiamo che questo è un matrimonio triste, è un matrimonio mortificante, forse anche in un scevro da violenze. Anita e Duarte si sposano il 30 agosto del 1835, con una cerimonia molto modesta, e solo 12 giorni dopo quella cerimonia, nello stato confinante del Rio Grande del Sul, viene proclamata la Repubblica Farrupia, e aveva appunto inizio il momento rivoluzionario di cui il collega ha parlato una settimana fa. Allora, tutte queste vicende storiche si incrociano con quelle di Garibaldi. Garibaldi era approdato in Brasile alla fine del 1835, era un esule, condannato a morte, perché aveva organizzato, tentato di organizzare un'insurrezione mazzineana a Genova, e in Sud America si era appunto unito ad altri mazziniani e i suoi ideali di fratellanza, di libertà, di cosmopolitismo, lo avevano appunto spinto ad abbracciare la causa patriottica della Repubblica dello Stato del Rio Grande contro l'impero brasiliano. Nel 1838 Garibaldi entra nell'esercito riograndense come comandante della squadra navale Farrupiglia e con la successiva poi invasione del territorio di Santa Caterina, Laguna, la città proprio di Anita, diventa un centro strategico. Allora, è il 22 luglio del 1839 quando Garibaldi giunge a Laguna ed è distrutto dal dolore quando vi arriva, perché solo una settimana prima in un naufragio ha perso ben 14 dei suoi migliori uomini, alcuni dei quali erano anche grandi amici. Ed è proprio in questo frangente che lui, come scriverà poi nelle memorie, incontra Anita per la prima volta. Allora, nelle memorie Garibaldi scrive che mentre si trova sul ponte della sua imbarcazione è ancorata in porto, mentre sta guardando con un cannocchiale le case di Laguna, scorge appunto il profilo di una giovane. Si porta subito a riva, la va a cercare e nel momento in cui la trova le dice perentoriamente tu devi essere mia. Questa è la versione che lui stesso scrive nelle memorie e queste parole acquisteranno poi anche nelle intenzioni di Garibaldi, ma soprattutto di tutti gli scrittori che le reiterano continuamente, una sorta di predestinazione di questo incontro, questo incontro fatale, l'unione di questi due esseri umani che in qualche modo erano predestinati a incontrarsi e a diventare una coppia di eroi. E l'immagine che vi mostro è un'immagine che poi farà tra le tante che Edoardo Mattania disegna a corredo poi di una biografia importantissima di Garibaldi, quella scritta da Jesse White Mario, dove ci mostra un primo incontro un po' diverso, dove viene richiamata l'immagine biblica dell'incontro di Giacobbe e di Rachele alla fonte, perché ormai a quella data è già in atto la piena santificazione laica dell'eroe Garibaldi che vigila sulla religione civile della patria. Ecco, quando si incontrano Garibaldi a 32 anni, Anita 18. Ce la possiamo immaginare come ci viene descritta da un contrammiraglio inglese che la descrive così. La bellissima Anita, una creola ma con i modi coinvolgenti delle signoritas della vecchia Spagna. Era diventata una splendida amazzone ed era una visione da ricordare come cavalcava a fianco del marito. Naturalmente tutti ci chiediamo a questo punto ma dove era finito il marito di Anita? Allora, con ogni probabilità, questo Duarte era partito da Laguna al seguito delle truppe imperiali, cioè quelle che proprio Garibaldi stava combattendo. Di lui non si seppe più nulla e oggi ancora non conosciamo il suo destino. probabilmente morì appunto in queste vicende militari. Wolfgang Rau ha cercato dappertutto il suo certificato di morte ma non l'ha trovato. Garibaldi lo scrive nelle memorie e è consapevole di aver colto un frutto proibito, lo chiama un vietato tesoro. però l'attrazione tra lui e Anita è fortissima, così come anche il desiderio di stare insieme, per cui vincono in qualche modo tutte le convenzioni sociali. E tra l'altro il 10 agosto di quello stesso anno Garibaldi viene nominato comandante in capo della Marina proprio della Repubblica Catarinense. A quel punto per Anita è il momento delle decisioni. deve decidere cosa fare, se seguire lo straniero oppure rimanere a laguna. E lei decide di lasciare la madre, la sua famiglia, la casa, le amicizie, i ricordi e inizia a seguire Garibaldi. Inizia dunque qua la loro vera vita insieme, attraversata da momenti di grande condivisione, certamente, ma anche di separazioni, anche di gelosie, di incomprensioni. È un rapporto che si basa sulla semplicità, sulla naturalezza, sono due caratteri molto istintivi e molto determinati che in dieci anni, tra l'altro, vivranno esperienze assolutamente fuori dell'ordinario. Ed è, questo è importantissimo, ci tengo sempre molto a sottolinearlo, un rapporto ispirato molto alla parità. Qui hanno fatto breccia anche le idee san simoniste che Garibaldi aveva respirato negli anni precedenti e lui stesso poi si batterà negli anni successivi per il voto alle donne, per una parificazione anche giuridica tra l'uomo e la donna. Allora, in questo rapporto completamente diverso, quindi, da quello che Anita aveva sperimentato col primo marito, Anita si sente certamente in qualche modo realizzata. È gelosa, però, certo, anche del fascino del marito e anche qua, se vogliamo, c'è un'altra parte che sta tra la leggenda e la realtà. Una famosa biografia americana è stata tradotta in italiano con il titolo La donna che insegnò a Garibaldi a cavalcare. In realtà, certo, Garibaldi era nato marinaio, però sapeva, e come sapeva cavalcare. Certamente, però, Anita che era figlia di un mandriano probabilmente lo migliorò ancora di più nell'equitazione e lo trasformò, diciamo, in un gauccio perfetto. Allora, questa vita loro sudamericana è narrata nelle memorie di Garibaldi che però noi dobbiamo sorvegliare con molta attenzione perché, appunto, è lo stesso Garibaldi a descrivere realmente, concretamente, sua moglie, ma anche, in qualche modo, lo sappiamo, incrociarla con la leggenda. Ad esempio, e non solo, le memorie di Garibaldi, anzi, lo anticipo questo, avranno diverse traduzioni. Nelle maggiori lingue dell'epoca saranno tradotte in inglese, in francese e in tedesco. Il grande traduttore francese di Garibaldi è Alexandre Dumas, uno dei più grandi romanzieri dell'Ottocento. Ed è poi, a sua volta, la versione, appunto, di Dumas che è destinata ad avere poi la maggiore circolazione nell'Europa della seconda metà dell'Ottocento. E Dumas, naturalmente, possiamo dire, ci mette del suo. Cioè, rende questa vicenda la storia di una coppia perfetta di amore e rivoluzione. E quindi, ci sono delle immagini che, ripeto, sono state storicamente sempre ripetute, che derivano direttamente dalla versione dumasiana delle memorie di Garibaldi e che ci mostrano questa donna coraggiosissima, eroica, più coraggiosa e più eroica ancora degli uomini, tra l'altro. Ed ecco allora il debutto eroico di Anita a bordo del Riopardo, mentre con Garibaldi cerca di fuggire dall'inseguimento della flotta imperiale. E poi Anita, ritroviamo Anita in realtà sempre accanto a Garibaldi. Le immagini che vedete sono immagini di una edizione inglese Garibaldi's Life and Times corredata appunto da immagini che però deriva direttamente dalle memorie garibaldine. Dicevo, Anita è sempre accanto a Garibaldi nei fatti d'armi più celebri di tutta questa vicenda militare. Pelotas, Santa Victoria, San José, dove Anita combatte, assume il ruolo di infermiera, organizza soccorsi per i feriti, si occupa dei rifornimenti nelle retrovie e poi ancora combatte sugli altipiani dell'interno nella battaglia di Curitibanos dove addirittura è colpita da un proiettile che le fora il cappello, da un secondo che le uccide il cavallo e poi ancora quando cerca disperatamente le sembianze del marito tra decine e decine di cadaveri rimasti sul terreno. A sua volta viene imprigionata, riesce a fuggire prima a piedi poi a cavallo fino a quando Allages non ritrova Garibaldi che a sua volta l'aveva data per morta, insomma, vicende davvero rocambolesche. E poi naturalmente ancora una delle ricostruzioni poi più celebri delle memorie garibaldine cioè la fuga solitaria di Anita a cavallo dal villaggio di Mostardas. questa è una delle prime immagini in realtà ma poi la seconda la più famosa di tutte con in braccio il figlio il primo genito Menotti che aveva dato alla luce solo 12 giorni prima il 16 settembre del 1840. Quindi vedete ecco questa è una è un racconto per immagini questa è la vita illustrata di Garibaldi uscita nell'anno della spedizione dei Mille ma le immagini in realtà corredano appunto il racconto delle memorie sono pagine autobiografiche quindi che narrano prodezze eventi quasi miracolosi e che appunto ritroviamo poi nelle litografie o scolpite nel bronzo però ci dicono comunque una cosa importante l'estrema crudeltà la violenza dei combattimenti a cui Anita è costretta ad assistere e che certo segnano in qualche modo anche il suo carattere la sua vita è una donna abituata all'orrore al dolore alla sofferenza fisica come qualunque combattente uomo e poi ecco tra l'altro proprio dall'immagine quella di Balbiani all'immagine di Balbiani si ispirerà Mario Rutelli nella scultura che ancora oggi si trova sul Gianicolo che verrà poi inaugurata nel 1932 allora nel 1841 sta per concludersi la drammatica epopea della rivoluzione faropiglia e Garibaldi sente il bisogno in qualche modo di fermarsi di garantire a questa piccola famiglia un rifugio più sicuro e accetta così l'invito di altri esuli italiani che erano a Montevideo e i Garibaldi si fermeranno proprio a Montevideo sino alla partenza poi definitiva Garibaldi insegna matematica lui Anita e Menotti vivono in una modesta casa dopo due anni decidono anche di sposarsi nella chiesa di San Francesco d'Assisi la vita in comune adesso cambia non ci sono più ritirate non ci sono più accampamenti all'aghiaccio Anita per la prima volta da quando ha conosciuto Garibaldi non è più guerrigliera ma diventa veramente madre compagna si deve prendere cura di Menotti ma anche degli altri figli che arriveranno Rosita che muore però a soli due anni nel 1845 Teresa nata sempre nel 45 e Ricciotti nato all'inizio del 47 ma Garibaldi non riesce a star lontano dai campi di battaglia e accetta quindi ancora una volta di comandare una flotta questa volta quella della Repubblica Uruguayana tra l'altro quelle che sto mostrando sono delle immagini sempre in questo caso di Matania che ci mostrano le strettezze economiche della famiglia erano immagini che volevano raccontare un aspetto ben preciso della vita di Garibaldi il suo disinteresse Garibaldi non si arricchisce con tutti questi incarichi militari Garibaldi li fa per i suoi ideali per i suoi valori ma non accetta sostanzialmente ricchezza in cambio e quindi la famiglia vive una vita sostanzialmente modesta allora accetta questo nuovo incarico ed è di nuovo però assente è assente lontano nuove imprese militari e soprattutto organizza anche questa la legione italiana di Montevideo che sarà poi protagonista di una lunga resistenza della città assediata dalle truppe nemiche del dittatore argentino Rosas e anche poi nella celebre battaglia di Sant'Antonio del Salto dell'8 febbraio 1846 che genera veramente è lì che Garibaldi diventa davvero l'eroe dei due mondi perché quella battaglia fa di Garibaldi un eroe sudamericano per cui insomma ormai è tra l'altro la sua fama quando lui arriverà poi in Europa nel 48 l'avrà già preceduto a Montevideo frequentano gli altri immigrati frequentano soprattutto questa famiglia Ligure che si chiamava Antonini che aveva una prospera attività commerciale e che sostiene le attività della legione Garibaldina Anita frequenta le donne italiane che le insegnano anche in italiano fino a quel momento lei e Garibaldi hanno parlato prevalentemente in portoghese poi giunti a Montevideo in realtà iniziano anche a parlare in spagnolo però come possiamo vedere erano poi gli glotti ci sono momenti di serenità certamente però arriva anche appunto la triste morte della figlia Rosita e poi verso la fine del 1847 anche in Uruguay giunge la notizia delle prime dimostrazioni patriottiche in Italia e a quel siamo alla vigilia della primavera dei popoli del 48 ed è allora che per Garibaldi e i suoi uomini è finalmente venuto il momento di porre la loro le loro armi insomma al servizio della libertà questa volta della causa italiana per cui iniziano a organizzare il rientro in Europa i tempi però si allungano in realtà allora Garibaldi decide di far partire per primo prima di tutto Anita con i figli e con le insieme ad altre famiglie di legionari e il 27 dicembre 1847 salgono Anita con i tre piccoli su questa nave diretta a Genova e Anna Maria lascia la sua terra natale che non rivedrà mai più il 3 marzo 1848 dopo 60 giorni di navigazione Anita approda a Genova e qui viene accolta da una folla di circa 3000 persone che tra l'altro le fa omaggio di un tricolore per Garibaldi e qua ci tengo anche a leggervi pochi passi di questo arrivo a Genova direttamente dai giornali la Concordia marzo 48 questa mattina giunse in questo porto la moglie e due figli due non tre si vede che il terzo era troppo piccolino per vederlo del prode Garibaldi proveniente da Montevideo un numeroso stuolo di cittadini si avvia in questo punto a farle un'ovazione sotto le finestre dell'albergo e voce sia per giungere anche l'invito Garibaldi il quale reccherebbe sia Roma offrire il suo cuore il suo braccio a Pio IX dalla Lega Italiana 3 marzo 48 4 marzo 48 ieri giunse in questo porto la moglie del generale Garibaldi in questo punto da diversi cittadini le è presentata una bandiera tricolore italiana in segno d'onoranza allora il suo arrivo effettivamente era stato preannunciato da dispacci che arrivavano da Montevideo e quindi attorno a questo sbarco c'è molta attesa perché Garibaldi come ho detto prima ormai la sua fama l'aveva già preceduto in Europa e quindi c'è molta curiosità per questa moglie di Garibaldi che arriva a Genova c'è una lettera che noi sappiamo non scrive lei la scrive probabilmente con quasi ogni con ogni probabilità la scrive Giuseppe Matteo Antonini parente che era console che era stato console della Repubblica dell'Uruguay prima a Savone quindi a Genova e che era parente degli Antonini di Montevideo la scrive quindi sotto dettatura e lei dice io sono stata festeggiata dal popolo genovese in modo singolare più di 3000 persone vennero sotto le mie finestre gridando viva Garibaldi e mi fecero dono di una bella bandiera dai colori italiani dicendomi di farla tenere a mio marito appena giunto in Italia onde egli sia il primo a piantarla sul suolo lombardo c'è già un riferimento chiaramente alla guerra di indipendenza se sapeste quanto è amato e desiderato Garibaldi in tutta l'Italia principalmente qui a Genova allora quando arriva a Genova sono gli ultimi giorni di carnevale la città in fibrillazione patriottica addirittura sta per raccogliere la proclamazione dello statuto Albertino e qua Anita noi lo sappiamo insomma sono riuscita ecco a ricostruire questi momenti si concede dei brevi momenti di svago e spettacoli a cui forse per la prima volta assisteva nella sua vita sempre in compagnia di questa famiglia Antonini che l'accoglie scrive ancora l'altra sera sono stata all'opera e ieri alla commedia ho visitato i principali luoghi della città e dei dintorni noi sappiamo che al Carlo Felice in quei giorni era in cartellone un'opera Tancreda e poi l'otto marzo parte finalmente con la piccola famiglia diretta a Nizza a Nizza città natale di Garibaldi dove ad accoglierla è la suocera Rosa due donne non solo di generazione ma anche di lingua di cultura diverse con abitudini molto distanti tra loro e per Anita abituata alla precarietà ai continui spostamenti la vita sedentaria e la coabitazione allargata dovettero certamente sembrarle una novità assoluta allora torno un attimo eccomi qua dunque viene finalmente raggiunta da Garibaldi sono le 11 del mattino di mercoledì 21 giugno 1848 quando dopo 14 anni di esilio Garibaldi vede avvicinarsi la terraferma italiana e Anita scende al porto insieme alla suocera portando con sé i figli poi insieme a Menotti sale su un piccolo battello che li porta incontro al bastimento c'è una poetessa nizzarda Agatha Sofia Sassernò che la osserva scendere dalla speranza come si chiamava la nave di Garibaldi e descriverà poi in una sua lirica la descriverà in questo modo anche qua ve lo scusatemi la condivisione arrivo subito chiedo scusa la descriverà in questo modo vedete al suo fianco questa donna dagli occhi neri la creola la creola innamorata per lui ha lasciato i suoi genitori i suoi tesori la sua felice America e il bellissimo lago della sua città natale brillante come uno specchio sola con tre figli ella ha osato nobile madre precedere il marito attraverso l'onda amara dell'oceano allora ok rimetto scusate la condivisione delle immagini ok e dunque arriva finalmente si ricongiungono e a inizio però in questo momento l'ultima parte dell'esistenza di Anita poco più di 13 mesi da quel momento che saranno trascorsi in parte a Nizza e in parte a fianco del marito che da quel momento segue tutti gli eventi bellici della prima guerra di indipendenza nell'ottobre del 48 Anita raggiunge Garibaldi che nel frattempo si era trasformato si era trasferito a Genova si imbarcano insieme diretti inizialmente a Palermo ma poi in realtà si fermeranno a Livorno trattenuti dall'entusiasmo dei patriotti locali rimarranno in quella città fino al 3 novembre e Livorno sarà quindi una delle città italiane dove Anita sostanzialmente soggiornerà di più però Garibaldi deve proseguire il suo percorso con la sua legione che deve partecipare appunto agli avvenimenti della prima guerra di indipendenza e Anita non può seguirlo quindi ancora una volta deve fare i bagagli e tornare a Nizza dai figli trascorrono mesi cruciali e arriviamo agli inizi del 1849 quando Garibaldi deve costituire quella che vedete ora nell'immagine cioè la legione garibaldina in difesa della Repubblica Romana per preparare questa truppa alla difesa della Repubblica Romana Garibaldi va a Rieti una posizione strategica appunto dove porta tutti i suoi uomini per l'addestramento militare e lì Anita li raggiunge pensate che viaggia da sola va fino a Genova si imbarca cioè rifà il percorso che aveva fatto insieme a suo marito ma questa volta lo fa da solo da sola va fino a Genova si imbarca fino a Livorno e da Livorno giunge fino a Rieti ci tengo a far notare che questo ci fa capire quanto questa donna fosse rivoluzionaria perché per l'epoca viaggiare da sola era un gesto ancora più rivoluzionario che imbracciare un fucile Rieti è l'ultimo momento in cui la coppia può vivere in una apparente tranquillità si sistemano al primo piano di un palazzo che era stato requisito al marchese Colelli c'è a farle da Cicerone nella città il padre il prete della legione Garibaldina Ugo Bassi e però appunto è giunto anche sicuramente a Rieti concepiscono il loro ultimo figlio però è giunto il momento ancora una volta di salutarsi e di separarsi Garibaldi fa tornare ancora una volta Anita a Nizza e da quel momento invece si sposta appunto con la legione Garibaldina a Roma e inizia e prende parte a quella che sarà l'epopea appunto la grande epopea della Repubblica Garibaldina dal Gianicolo assediato dalle truppe francesi sono i momenti in cui tutti noi lo ricordiamo naturalmente muore Luciano Manara morirà poi Goffredo Mameli sono i momenti anche di partecipazione popolare di tutti i trasteverini un momento anche di mitizzazione di altre donne anche Orsola Vivandiera di Spoleto oppure Colomba Antonietti Porzi insomma altre donne che mettono la propria vita al servizio della Repubblica e negli ultimi momenti concitati della difesa della Repubblica Romana Anita matura ancora una volta la decisione di raggiungere Garibaldi lascia Ariete era stato un soggiorno temporaneo invece lei qui prende una decisione diversa una decisione di nuovo importante lascia i tre figli nelle mani della suocera e decide appunto di raggiungere Garibaldi a Roma di nuovo affrontando per una seconda volta un viaggio molto lungo e ancora una volta in solitudine Anita entra a Roma e rinunciando in qualche modo al ruolo principale che veniva riconosciuto alle donne nell'ottocento cioè quello materno quindi mette da parte il ruolo materno per abbracciare invece il ruolo di guerriera di combattente e soprattutto il ruolo di donna che vuole seguire il compagno fino alla fine Anita entra a Roma il 26 giugno del 1846 sembra un miracolo che lei sia riuscita da sola a illudere i controlli delle spie austriache in Toscana delle vedette francesi nel Lazio e raggiungere Garibaldi il momento dell'incontro tra i due verrà narrato in maniera teatrale nella versione di Dumas delle memorie garibaldine laddove il grande romanziere fa dire al generale io la strinsi al mio cuore il mio buon angelo era venuto al mio fianco e rivolgendosi ai compagni signori questa è la mia Anita ora abbiamo un soldato in più allora innanzitutto già da questo si capisce non è proprio un falso storico ma certamente c'è una grossa forzatura perché tutti quegli uomini conoscevano benissimo Anita e quindi Garibaldi non avrebbe avuto bisogno in realtà di presentarla ma soprattutto la grande forzatura di Dumas che metterà nella descrizione il fucile in braccio ad Anita e descriverà un Anita combattente anche nella Roma sotto assedio cioè una versione risorgimentale dell'eroina sudamericana ecco noi sappiamo che questa è una forzatura perché in quei giorni Anita non cavalca non potrebbe imbracciare un fucile semplicemente perché sta troppo male per farlo è partita da Anizza già in condizioni precarie di salute e dopo tutto il viaggio la sua situazione è peggiorata ormai è a metà della gravidanza e nella calura terribile della parentesi romana contrae poi una febbre di natura malarica che le sarà fatale il 30 giugno del 49 i francesi aggrediscono le mura aureliane e sfondano l'ultima difesa della Repubblica Garibaldi non attende l'ingresso dei francesi raccoglie i suoi uomini in piazza San Giovanni fra i 3 e 4 mila uomini e è deciso a quel punto a raggiungere Venezia che ancora resiste agli austriaci la scrittrice Margaret Fuller descrive per i giornali americani la scena di questi giovani che hanno ancora voglia di lottare a Garibaldi e poi ci descrive Anita la moglie di Garibaldi che lo segue a cavallo Garibaldi le ha fatto avere una blusa della legione calzoni maschili perché fosse più comodo per lei cavalcare e a inizio per loro quella che vedete nella cartina cioè questa marcia impossibile verso Venezia che sarà in realtà destinata a concludersi poi nei pressi di Ravenna è una marcia di 300 chilometri che compiono in circa un mese si spostano quasi sempre di notte e fanno accampamenti diurni perché sono inseguiti da diversi eserciti quello pontificio quello borbonico poi quello toscano e poi infine quello austriaco la colonna Garibaldina è male equipaggiata Garibaldi certo applica qui le tecniche guerrigliere apprese in Sud America i depistaggi i finti spostamenti però certo che perde progressivamente pezzi del suo esercito Anita è oggetto della curiosità delle popolazioni locali cioè in tutti i posti dove si fermano c'è qualcuno che ha anche delle forti attenzioni per lei come queste donne di Cetona che le confezionano durante una sosta un abito più comodo per lei ma Anita sta sempre peggio è indebolita dalla gravidanza da queste marce a San Marino Garibaldi insiste perché lei si fermi si faccia curare ma Anita non ne vuole sapere vuole continuare a stargli accanto e condividere a quel punto il suo destino il primo agosto vedono finalmente il mare l'Adriatico Cesenatico è il luogo dove tutto sembra finalmente possibile avere raggiunto il mare è importante perché a quel punto potevano imbarcarsi verso Venezia è un'illusione che avevano vagheggiato per oltre 300 chilometri requisiscono dei bragozzi dei pescatori si mettono in mare ma durante la navigazione vengono sorpresi dalla marina austriaca allora l'imbarcazione di Anita dove sta Anita con Garibaldi riesce ad approdare alla foce del Po di Goro e da quel momento tutti quanti si separeranno per poter fuggire più facilmente rimangono solo in tre Garibaldi e Anita e questo maggiore soprannominato leggero che li accompagna per tutto il tempo hanno una fortuna c'è un patriota locale che si chiama Nino Bonnet che è il loro salvatore organizza una sorta di catena umanitaria che li fa riposare li fa travestire da contadini e organizza appunto la loro fuga ma ormai Anita è entrata in agonia non può più muoversi la distendono su un materasso trainato da un biroccino e raggiungono finalmente verso sera questa fattoria dei Marchesi Guiccioli e lì alle 19.45 del 4 agosto 1849 non sappiamo se per le scale al primo piano su un materasso su un letto finisce a soli 28 anni la vita di Anita dico più solo che questo della morte di Anita è già passato molto tempo quindi passo in veloce rassegna le numerosissime infinite immagini del momento della morte di Anita dello sbarco del del tentativo di salvataggio ecco di questa donna da parte di Garibaldi da parte anche degli altri patrioti del luogo sono veramente tantissime e sono tantissime per più motivi Garibaldi si salva Garibaldi quindi non è un martire come potevano essere stati altri martiri del risorgimento italiano Garibaldi morirà fortunatamente nella sua caprera guardando il mare come aveva chiesto e Anita però è il suo sacrificio la morte di Anita rappresenta il sacrificio di Garibaldi quindi in quel linguaggio martirologico dell'ottocento che esalta appunto il martirio della patria Anita rappresenta appunto il dolore e il sacrificio di Garibaldi questa immagine è una delle ultime che vi mostro in realtà ci racconta anche un aspetto Garibaldi la diciamo la la stampa soprattutto ecco reazionaria e conservatrice addirittura accuserà Garibaldi di essere un uxoricida cioè di avere ucciso Anita ormai agonizzante per avere più facile la fuga in realtà non fu assolutamente così e ad esempio molte di queste litografie avevano anche appunto lo scopo di mostrare un Garibaldi che fino all'ultimo in verità aveva appunto assistito e accompagnato la morte della moglie Garibaldi e il suo amico leggero non possono fermarsi riprendono appunto la fuga altri seppelliranno i patrioti seppelliranno il corpo di Anita Garibaldi riuscirà a mettersi in salvo e diventerà ancora una volta un esule questa volta senza Anita il corpo sepolto di sua moglie riaffiorerà poi dalla sabbia qualche giorno più tardi e alla fine verrà sepolto nel cimitero locale dieci anni più tardi eccolo qua un Garibaldi completamente diverso un Garibaldi che è in realtà generale in dieci anni è cambiata molto la storia della penisola italiana quindi è un Garibaldi che torna in quei luoghi dell'Italia centrale però con un ruolo istituzionale e non è più quindi un fuggiasco ma un ruolo istituzionale riconosciuto ebbene una delle prime cose che farà Garibaldi tornando dove era stato esattamente dieci prima sarà andare a recuperare appunto le spoglie della moglie a poche settimane quindi dalla fine del potere pontificio Garibaldi torna a Mandrioli e recupera le spoglie di sua moglie perché vengano trasportate a Nizza qui è il quadro questo è un particolare che ci mostra appunto quel momento simbolico il momento del recupero delle spoglie che vengono appunto trasportate a Nizza dove già era sepolta anche la madre di Garibaldi nel 1932 cioè nel nel cinquantesimo anniversario della morte di Garibaldi decennale anche della marcia su Roma sarà il regime fascista che deciderà il regime fascista che non può eludere le celebrazioni garibaldine il regime fascista decide anche di celebrare la figura di Anita e quindi decide di recuperare quindi c'è un'altra traslazione delle spoglie di Anita che da Nizza vengono appunto portate a Roma vengono portate a Roma vengono questo è il il cofano il il feretro scusatemi che trasporta le spoglie di Anita che viene fatto appunto passare sotto il monumento a Garibaldi che era stato inaugurato nel 1895 sul Gianicolo e le spoglie di Anita vengono poste nel basamento del monumento le spoglie arrivano il 2 giugno del 1932 il 4 giugno due giorni dopo viene svelato lo splendido monumento equestre di Mario Rutelli nel basamento del quale appunto vengono poste le spoglie di Anita Garibaldi il fascismo si era impossessato del mito di Anita la trasforma in una madre virtuosa in una madre pronta al sacrificio finale tanto è vero che sarà lo stesso Rutelli aveva concepito il monumento come il monumento a una guerrigliera con la pistola in pugno sarà proprio il duce in persona a voler invece l'inserimento del figlioletto dell'immagine del figlioletto in braccio ad Anita per recuperare l'idea appunto di una madre virtuosa ma soprattutto per celebrare l'unione coniugale di questa coppia di eroi Anita serviva in qualche modo a depotenziare l'immagine rivoluzionaria di Garibaldi il fascismo certo non celebra e non commemora gli aspetti rivoluzionari dell'eroe commemora l'amore per la patria la disponibilità al sacrificio io penso di aver finito il tempo a mia disposizione è chiaro che sarebbero moltissime altre le cose da raccontare e anche le immagini se volete da far vedere questi sono solo due dei monumenti sudamericani Anita insomma qui la vediamo interpretata nella locandina da Anna Magnani nel grande film Camice Rosse di Goffredo Alessandrini del 1951 insomma la sua storia eroica e commovente non ha mai finito di incantare e di appassionare le sono stati dedicati romanzi canzoni anche una anche specie arbore c'è una rosa che viene coltivata in Italia che è stata portata anche in Brasile che porta il suo nome Anizza è diventata un elemento fondativo dell'identità territoriale e voglio ancora ricordare che dal 2012 il suo nome per via di una legge firmata dalla presidente brasiliana Dilma Rousseff è stato incluso nel libro degli eroi della patria a dirci davvero dell'internazionalità di un mito davvero in perituro vi ringrazio molto per l'attenzione grazie grazie da parte nostra e ovviamente è curioso quanto quanto si riesca a ricostruire di un personaggio così poco noto dal punto di vista della dei documenti che sono giunti fino a noi da questo momento possiamo aprire a eventuali domande del pubblico per un preghiaccio faccio una domanda io una domanda sulla prospettiva diciamo di questa figura femminile rivoluzionaria da tanti punti di vista è rimasto qualcosa nel nel risorgimento nella storia delle donne che hanno partecipato al risorgimento di questa esperienza o è rimasta una una meteora femminile è molto centrata questa domanda perché ci sono tutta una serie di opere che vedono la la luce soprattutto nella seconda metà dell'ottocento che sono che noi oggi chiamiamo plutarchi che sono delle biografie sostanzialmente che venivano scritte proposte biografie ad esempio di donne illustri che avevano fatto la storia d'Italia e che venivano proposte alle giovinette era il fare gli italiani e le italiane quindi bisognava proporre dei modelli e ci sono molte donne che vengono incluse in queste opere quindi prosopografiche quindi molti profili di donne Adelaide Cairoli la principessa Cristina di Belgioioso Trivulzio Caterina Francesca Ferrucci e molte altre e si nota invece proprio la mancanza di Anita e il motivo è chiaro in questi queste opere dovevano offrire un modello di virtù che era prima di tutto quello materno e mentre invece come ho raccontato Anita a un certo punto aveva non rifiutato naturalmente il suo ruolo materno semplicemente accanto a quel ruolo materno aveva voluto anche svolgerne altri autonomi indipendenti e quindi in quelle opere la figura di Anita non entrava venivano proposte figure anche della classicità della storia italiana o comunque della contemporaneità ma erano modelli di donne letterate umaniste e di nuovo Anita non poteva stare quindi in questa compagnia molto spesso viene viene detto ci sarebbe anche la figura della moglie di Garibaldi ma era una straniera era brasiliana e quindi non ne parliamo ma in verità è che Anita era davvero una meteora come ha detto il direttore cioè risultava alla fine eccentrica rispetto a quello che doveva essere il modello di donna virtuosa madre angelo del focolare domestico da proporre appunto alle nuove generazioni di di giovani italiane questa è una parte della risposta l'altra parte è devo dire una cosa dal mio punto di vista molto interessante Garibaldi per la fine drammatica della moglie stende sul suo ricordo sulla sua memoria una sorta di riservo incredibile in altre parole fino a quando lui è in vita di Anita non si parla i Garibaldini che gli stanno accanto lo lasciano scritto nelle memorie nelle lettere con in presenza di Garibaldi non si parla di Anita Garibaldi racconta le vicende della Repubblica Romana la fuga la traversata la trafila Garibaldina ma non parla mai di Anita e quindi in presenza del capo Anita non viene mai nominata gli stessi figli di Garibaldi Menotti Ricciotti diranno papà non ci parlava mai della mamma il dolore è troppo forte per Garibaldi e Garibaldi stende una sorta di davvero di riservo sulla memoria della moglie solo con la sua morte nel 1882 quando Garibaldi muore si inizia timidamente a cercare di storicizzare la figura di Anita però si dirà sempre troppo poco di lei e la si racconta soprattutto per quell'ultimo momento il momento della morte perché ancora una volta raccontare la morte di Anita è raccontare il dolore dell'eroe dei due mondi infatti questo anticipa un pochino un'altra un'altra curiosità che era proprio quella di quale parte a Garibaldi nella costruzione della memoria di Anita però sembrerebbe ben poca in verità se lui in vita poi è stato così riservato nel rappresentare Anita oppure diciamo la mia curiosità è questa cioè Anita che naturalmente è nota a noi perché è stata vicina appunto a un personaggio chiave della storia del risorgimento se appunto Garibaldi ha contribuito recentemente a costruire un alone mitico intorno a questa figura oppure se diciamo è estraneo al tipo di immagine che poi noi abbiamo di questo personaggio allora il suo riservo è un riservo per cui era ancora troppo forte il dolore e in pubblico non amava parlare quindi della moglie soprattutto delle vicende delle vicende che avevano segnato la morte di Anita che per lui erano state dolorosissime tra l'altro lui si fa ha enormi sensi di colpa Garibaldi perché Garibaldi è vero che le aveva detto più e più volte fermati torna a casa non seguirmi però poi di fatto lui sopravvive e lei no quindi sono enormi i sensi di colpa ed è anche per questo motivo che c'è questo riservo pubblico a parlare di Anita ma nelle memorie invece che lui elabora le memorie sono una lunga elaborazione ci lavora sopra moltissimo Garibaldi e soprattutto poi ci sono appunto diverse versioni delle memorie lui ci ritorna eccetera però in queste memorie è lui davvero il creatore di questa immagine di Anita ed è un'immagine in cui c'è tutto ci sono molti aspetti c'è la compagna fedele la donna innamorata ma soprattutto c'è la donna coraggiosa ed eroica che per lui era funzionale perché le memorie come come volevano anche essere uno strumento per incitare gli italiani a combattere cioè gli italiani che secoli di letteratura avevano descritto come imbelli come non atti appunto a combattere per la per la propria patria ebbene Garibaldi si prefigge proprio questo scopo quello di suscitare l'entusiasmo patriotico e soprattutto suscitare però l'azione militare e paradossalmente la figura della moglie è funzionale a lanciare un messaggio mia moglie è talmente coraggiosa che insomma gli uomini quantomeno devono eguagliare il coraggio di quella donna voglio anche veramente citare un passaggio nel quando dopo il secondo esilio quindi quando lui appunto dopo il 49 fugge arriva in America arriva a New York si trova a Staten Island conosce questo editore che si chiama Fyodor Dwight Fyodor Dwight ormai ha già capito la grandezza di Garibaldi e sa viene a sapere che Garibaldi sta scrivendo le sue memorie quindi sostanzialmente si fa avanti per offrirsi come poi traduttore della versione inglese per il pubblico anglosassone di queste memorie e Garibaldi però gli dice insomma che ci vorrà tempo ecco prima che possa finire queste memorie allora Dwight gli chiede va bene allora chiede a Garibaldi di anticipargli degli sketches cioè degli schizzi biografici di cui i personaggi che erano stati accanto a Garibaldi nell'epopea della Repubblica Romana Mameli Bixio e tanti altri e Garibaldi promette l'invio di questi brevi ritratti il 30 ottobre del 1850 manda il primo di questi sketch a Fyodor Dwight e gli scrive gentile signore invio il primo dei miei schizzi biografici come promesso e non si sorprenda se troverà che è quello della mia consorte ella è stata sempre la mia compagna nella buona e nella cattiva sorte condividendo come leggerà i miei più grandi pericoli e superando ogni difficoltà con la sua fortezza in quel breve sketch sono circa per capirci due cartelle Garibaldi mette tutto di sua moglie la chiama martire della libertà italiana coraggiosa amazzone donna quindi al di sopra ecco anche del coraggio militare degli stessi uomini compagna fedele e madre amorevole c'è già tutto diciamo ci sono già tutte le molteplici immagini attraverso le quali Anita è stata rappresentata in oltre in più di 170 anni perfetto adesso vedo che nella chat ci sono un paio di curiosità ci chiedono a proposito di altre celebrazioni in Brasile e in Italia so che c'è naturalmente un programma di celebrazioni soprattutto a Laguna in Santa Caterina per quanto ci riguarda io posso dire che noi insieme all'Istituto di Rio stiamo lavorando un progetto teatrale in collaborazione italo-brasiliano è un monologo dedicato a Anita Garibaldi che si chiama L'attesa su un testo di Valeria Magrini che vedrà una versione in italiano realizzata in Italia e una versione in portoghese realizzata in Brasile e su questo progetto stiamo lavorando e vorremmo realizzarlo nei prossimi mesi naturalmente questa saga Vicchioli potrà aggiungere eventualmente qualcosa su se ci sono informazioni su eventi che si stanno facendo in Italia poi c'è un'altra osservazione invece su Rieti su questa parentesi a Rieti di come dire anche di armonia prima della fase più conflittuale della Repubblica Romana e è stato inaugurato un monumento nel 2019 in memoria della permanenza in città evidentemente di Garibaldi e Anita questo effettivamente come sappiamo tutte le piazze dei paesi d'Italia spesso riportano anche una targa in cui è passato Garibaldi o si chiamano Piazza Garibaldi naturalmente soprattutto benvengano iniziative che omaggiano anche questa importante presenza femminile a fianco di Garibaldi passo la parola alla professoressa Grazie no mi fa molto piacere sapere ecco di questa opera di Valeria Magrini che ho conosciuto a Mandriole e quindi insomma sono davvero molto lieta sono sempre molto contenta di sapere quando insomma ci sono iniziative che riguardano Anita o che attraverso Anita anche vogliono ricordare appunto la partecipazione delle donne al risorgimento questo processo difficile no perché c'è stata un'emancipazione di una nazione però l'emancipazione femminile in realtà è stata avuto un processo molto più lento e recuperare quindi tutti i pezzi di queste storie è un'opera fondamentale la storia è stata scritta dagli uomini principalmente e quindi gli uomini hanno sempre un po' relegato il ruolo delle donne nelle seconde file ma oggi quando apriamo gli archivi e iniziamo o leggiamo i giornali dell'epoca veramente c'è un sottofondo che ancora deve essere recuperato di ricerca di studio del ruolo ecco di molte donne di molte avanguardie anche patriottiche sulle iniziative voglio così ne approfitto anche per ricordare che in Italia in realtà sono state fatte alcune iniziative ma a causa del covid altri ce ne saranno rallenteranno magari un po' andranno a scavalco del 2022 devo dire che da questo punto di vista è vero che le commemorazioni sono importanti però devono essere secondo me possono essere un'occasione dopodiché non dobbiamo anche essere così schiavi no della delle commemorazioni legate all'anno voglio dire possiamo continuare a celebrare il bicentenario di Anita anche tranquillamente nel 2022 e da questo punto di vista mi fa veramente piacere annunciare ecco in qualche modo che è in lavorazione anche un docufilm su Anita dal titolo La versione di Anita al quale ho avuto davvero il privilegio e la fortuna anche di collaborare del regista romano e produttore Luca Criscenti e già il titolo dice tutto è veramente un porsi davvero dalla parte di Anita e volere restituire lo sguardo di Anita davvero la versione di Anita su Rieti allora se posso permettermi di fare un momento la condivisione eccolo qua questo è il bellissimo busto di Anita che è stato inaugurato appunto nel 2019 a Rieti il presidente Gianfranco Paris di Rieti insomma è colui che insomma tutti i soci e le socie Garibaldine ha portato davvero alla realizzazione di questa che io trovo bellissima opera nella sua modernità e contemporaneità e che ecco dice bene giustamente Michele Gialdroni sono le cento città d'Italia che ricordano patriotti patriote padri e madri della patria è importante però sottolineare come tra le città italiane Rieti Livorno Genova cioè proprio quelle città Roma le città proprio in cui lei comunque in qualche modo aveva sostato era stata comunque accolta ecco abbiano anche forse sviluppato una sensibilità tutta particolare nel ricordare nel ricordarla un ultimo aspetto a cui tengo io che mi sembra rilevante appunto quando anche nelle riflessioni precedenti è questo cosmopolitismo che era insido nel anche negli sforzi di costitutivi di nuovi organismi nazionali che comunque richiamandosi sempre a ideali umanitari di solidarietà e di diritti da garantire alla popolazione raccoglievano naturalmente adesioni celeberrime in tutto diciamo in tutto l'Occidente perlomeno ed è questo molto interessante anche così come riflessione contemporanea il fatto che anche come dire lo sforzo per una affermazione di un'identità nazionale non esclude come dire la partecipazione eterogenea di persone della più varia provenienza perché ci si richiama sempre a ideali di giustizia condivisi da tutti quindi questa dinamica tra affermazione della nazione e partecipazione internazionale che valica qualsiasi frontiera è molto interessante secondo me anche dal punto di vista odierno cioè quando quando si parla anche dell'orgoglio di appartenere ad una ad una nazione può includere tranquillamente diciamo storicamente persone della più varia provenienza questo mi sembra interessante posso aggiungere quello che hai appena detto non si dovrebbe aggiungere altro perché l'hai anche detto molto bene con molta passione e mi trovo assolutamente d'accordo vorrei solo dire su questo davvero noi oggi diciamo global usiamo molto world history global history la globalizzazione eccetera e loro erano da questo punto di vista ci hanno preceduto perché loro qua si tratta della globalizzazione di ideali che erano ideali democratici che erano ideali egualitari anche di richiesta di costituzioni di richiesta di rappresentanza politica che erano anche temi appunto fondamentali di indipendenza di autonomia nazionale e che davvero attraversano l'oceano attraversano gli oceani per cui tutte queste persone erano c'era una connessione proprio degli ideali della circolazione di questi ideali certamente da questo punto di vista il grande mondo democratico parla e si rivolge a una platea molto ampia penso solo al verbo di Mazzini che non si limita certo a costruire una giovine Italia ma a costruire una giovine Europa e quindi ci sono anche degli ideali che sono davvero transnazionali fin dalla loro costituzione un altro aspetto che mi piace però sottolineare è anche questo abbiamo visto prima come Brasile Montevideo la legione italiana l'Italia ancora non esiste ma loro sono già una legione italiana e sull'ultima frase che tu hai detto io ricordo sempre una frase che porto veramente dentro di me il nostro amato presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi che aveva un amore tutto particolare come sappiamo per il risorgimento per i valori profondi della patria mi ricordo che fu l'occasione del 140esimo anniversario dell'unità italiana quindi era il 2001 pronunciò proprio a Torino una frase bellissima io amo allo stesso modo Livorno l'Italia e l'Europa disse e secondo me in quella frase in realtà c'è tutto c'è molto della storia italiana ma c'è molto di questa condivisione di questi ideali e ancora pensiamo all'Ottocento per cui i Santori di Santa Rosa i Lord Byron eccetera vanno a morire per la libertà per l'indipendenza della Grecia quindi insomma è una storia davvero che emoziona molto alle parole di Ciampi io aggiungo naturalmente che noi amiamo anche il Brasile perché noi siamo qui a rappresentare proprio questo questo contatto storico e sempre vivo tra l'Italia il Brasile l'Europa il Sud America possiamo sempre ampliare il raggio d'azione allora grazie mille Silvia grazie a voi grazie al pubblico per averci accompagnati in questo breve ciclo e sicuramente torneremo ad affrontare argomenti anche storici interessanti nell'attività dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo nei prossimi tempi grazie mille benissimo un saluto a tutti e grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti